Mi raccomando, impazzite con di mi piace, almeno 30.000 mi piace per questa nuova modalità che è proprio da pazzi, malati, maniaci È una figata questa modalità, ora vedrete, insomma, buona visione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, siamo qui in una nuova serie su un nuovo video del telegioco che si chiamano i Lucky Block Vabbè, modalità nuova potrei dire, cioè esisterà tipo due anni Ho capito, ma in Italia, cioè, pochi l'hanno fatta e noi non l'abbiamo mai fatta Stai fermo che mi uccidi, poi bisogna distrattare la mappa Madonna Allora ragazzi, facciamo i minigame, abbiamo deciso di iniziare a fare i Lucky Block Cioè, io ho deciso di iniziare a fare i Lucky Block e loro mi seguono Non uccido, non uccido Vai, spiega un po' le regole Allora, ecco le regole, ci siamo delle corsie, tu devi spaccare tutti i Lucky Block Che non sono altro che delle cose che una volta rotte ti fanno un'azione a caso Ti possono dare un'armatura, ti possono dare un calcio in culo, ti possono far spawnare il boss totale della vita Draghi, mostri, leader e tutto il resto E tu devi rompere ogni blocco fino alla fine della corsia, il primo che arriva vince Vince, non bisogna cittare, non bisogna... Non bisogna andare nel corsia degli altri giocatori perché è... Mi raccomando a Steppni Perché? Ma che vuoi? Non bisogna toccare Landstone, quindi non bisogna andarci sopra Basta E poi siamo in tre, siamo belli e andiamo a giocare in normal Allora, visto che siamo in tre dobbiamo prendere una testa Dobbiamo prendere una testa, faccio eccolo qua E metterla al posto di un giocatore che non vogliamo che giochi Ok, io mi prendo il rosso No Non ho capito Vai sul viola Vai sul viola Ok, io sono giallo, si parte Ragazzi tra cinque secondi Ok, ovviamente queste sono le corsie tra pochi secondi Parli cinque, quattro, tre, la porta Dov'è anche ti... dal culo Ma allora vi devo fare il culo ragazzi Ho una canola pesca Oddio è tutto buio Oddio è tutto buio Oddio è tutto buio È tutto... Oddio, guarda quanta gente Allora ragazzi Allora ragazzi, lo scopo della gente Potete aprire tutte le lucky block E cercare di avanzare Oddio che strozzi di merda Ma è tutto buio Non capisco un cazzo Oddio c'è un big pisellone gigante Oddio c'è un gigante Perché spawnano gli unicorni Oddio, ma cos'è questa mappa Addio, aggiornati con me Rub il blocco, rub il blocco, rub il blocco Come faccio ad uscire da sta merda qui Oh mamma mia Perderò la voce a giocare a sta mappa Allora ci sta... Oddio mio Comunque ragazzi ci sta il keep inventory Perché ovviamente senza keep inventory non si potrebbe fare Ma c'è un gigantesco Eh lo so Calma, calma Io vedo tutto buio, quanto dura? No Non lo so Eh il problema è che io Mi hanno intrappolato in una gabbia Non riesco ad uscire ragazzi Aiutatemi Corri Corri Porco Giuda incastrato nel culo di tua mamma Ma mi stanno entrando in casa Cosa? Mi sono entrati in casa Uh Sto avanzando, sto avanzando Anch'io con calma Sh 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 Wither Cosa? Oddio è un gigante Vai via Vai via Oddio la TNT Cos'è questa cosa? AAAAAAA Bene 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 per me Bene per me Adesso avanza 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 Con calma, con calma Non la gabbia Così 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 No allora tu mi devi spiegare come faccio a passare però Puttana sono caduto di sotto Con calma ragazzi state facendo troppo casino Dovete iniziare ad essere più seri Ok Tranquilissimo Tranquilissimo Parkour Sono tranquilissimo Ce la faccio Chi è che sta vincendo? Chi è che sta più avanti con le lucky block? Io Ma che tu? Io Io Ma che stai a dire? Non ci si crede che stai tu avanti Che cos'è questa voragine qui? Mannaggia E' logico Ma cos'è? Un cazzo Sembra una cosa da fare veloce ma da fare ragionata come cosa Cioè dovete cercare di tenervi la roba che vi può servire I blocchi per fare i ponti E tenervi per esempio le armi Basta E' un villaggero Ok ok ci siamo ci siamo ci siamo Allora Come state messi voi? Eh Merda Non lo so Non penso niente Penso sia buono Alcune cose Alcune cose sono positive Suri ma io vedo che sulla tua lane ci sono delle robe in ferro che non hai preso No ma nella mia lane c'è l'inferno Cioè è esploso tutto Chi vincerà questa battaglia? Io prendo la corazza in ferro Ma perché sei così avanti come fai? Un calmo Un calmo Un calmo Oddio Oddio Per niente io sto usando le armi ci ho pure l'arco per uccidere i mob Voi invece fate andate a cazzo di cane Le frecce me le date una lucky block Si una lucky troia Ok perfetto perfetto posso andare avanti Se usate i dovete usare tutta la roba che vi da per cercare di riuscire a vincere la gara Si e se mi da un creeper su l'uper caricato cosa ci devo fare? Non lo so però senti da altro Chi è che sta combattendo con gli zombie la giù? E sto per avanti Vaffanculo Oddio ma tu corri e basta Una cesta Diamanti Lucky blocks Ma c'è poco da ragionare quando un lucky block ti esplode in faccia No Perché se riesci a fare anche dei ponti per dopo per quando ritorni è molto meglio Cazzo una spada in diamante ma Ah bella corazza in ferro buono I valetti in ferro Sul rialpare non sta capendo niente Cioè sta andando così a casa No però ho capito come svantaggiarti Svantaggiarmi? Ho trovato dei lucky block Che cazzo è nato? Porca puttana Un maga va più gigante Ho trovato dei lucky block in una cesta E dato che tu nella tua lane devi spaccarli tutti Ne ho messi tutti nella tua lane così Non vuoi entrare nella mia lane Non sono entrato Non sono entrato Dalla mia oggi sono riuscito Dopo vedere nel video Oddio sono in una gabbia Con della lava Perché? Ma c'è da fare anche il parkour Dai dai Che culo No ma c'è cosa su le lucky block che mi hai messo tu? Le hanno dato la spada in diamante Cosa? Sii Grazie Di danneggiare persone Ma io che cazzo ne so Sono lucky Eh che c'entra Devi prendertela Ti possono servire e ti possono dare delle robe Do not press the button Oddio l'ho premuto Chi l'ho premuto è esploso Un'altra spada in diamante Ma quanto cazzo siete lontani voi? Ma come fai delle spade in diamanti? Perché ci possono uscire i mob e li puoi picchiare e ti puoi far dare una mano Devi usare tutto Ma cazzo Cazzo il ghast Vedi quando fai dei diamanti e ho ucciso il ghast Vaffanculo Eppure le maghe ma più Diamanti Diamanti Veramente siete già arrivati? Ma che madera è tassurri Ok 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 Come state messi? Calma 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 eh Tu hai il desiderio di venire? Che cosa è successo? Avete fatto troppo casino Non si capisce più niente Io vedo delle robe in aria Che sono? Che sono quei fasci di luce? Eh perché sto facendo un bordello di lucky block utili E le fasci di luce a che servono scusa? Non lo so Non lo so Vabbè allora Qua c'è un blocco di diamante Allora Per sorpassare Io ho un magma cube sul muro Come faccio a sorpassarlo? Ma questi buchi I buchi Sono nudi dove li ha trovati? Oddio è tutto buissimo Cos'è? Oddio Ti giuro mi sta Ho mal di goga E siamo solo a metà video Stai calmo stai calmo È perché avete urlato troppo Dovete farla molto più organizzata La cosa così caotica Ma non si può organizzare un blocco per terra? Sì Devi farti il ponte per poi tornare ogni volta che muori Che caso sono tutti sti mob? Ma il fatto è che se te lo fanno sotto i piedi sprofondi e riparti all'inizio ogni volta Ma non puoi girarci intorno? Certo che puoi No perché se vai nell'altra lane no No non vai nell'altra lane Ah ok Porca ponte Sto magma cube si è messo sulla strada L'avete visto? Ho una spada della madonna Sulla destra Sulla destra avete visto il mio magma cube che si mette lì Ragazzi questa ci voleva questa modalità per sclerare un po' Una gara Oddio quanti mob Non è da caso Ci sono otto mille di mob sulla strada Allora io mi sono fatto il ponte per superare le parti dove stanno dei cazzo di ragnatele E mi serve un po' E il magma cube vai a rompere le palle assurri No 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 Hai visto se sei messo sul mio ponte? Io non so che fare Non mi interessa Oddio 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 Ho un'idea Ho un'idea Faccio Cosa faccio? Faccio un... Vado... Porco Giuda! Ma Seppri non si sente? Che sta facendo? Parla un po' Che cosa ti sta uscendo dalle casse fortunate? Si Si Godo Godo Ragazzi la gara per adesso 12 su real power morti Steppri 9 morti Vegas 8 morti Perché ho più morti io? Non lo so Sei morto all'inizio 57-8 milioni di morti Ho capito perché non so giocare Ma nessuno l'ha mai provata sta modalità Si è nuova per tutti Vai 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 Diciamo le cose come nonostante Io vedevo i video Appunto Si 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 Io sapevo solo ho visto i video che uscivano le cose a caso Si 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 Oh il magma cube si è levato Dio il magma cube si è levato Si Dai 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 Calma 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 Ma qua è tutto buio non si poteva mettere giorno Calma calma C'ho un laggy block sotto Bella Fortunato No Bob no Grande Bob Chi è Bob? E' uno zombie pieno di tutto in diamante Bello Bob Oddio ho finito Oddio ho quasi finito No non ci si crede Perché c'è acqua? Perché c'è acqua dappertutto Oddio No 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 Sto soffocando Mi fa perdere un casino di tempo No non può vincere No Non puoi uscire Ma è bello che lo uccidono sempre i ragni Sto soffi Porco Giuda Ti giuro che sono quasi arrivato alla fine C'è Bob sulla mia lane C'è Bob sulla mia lane Porca puttana come faccio E' tutto in diamante sul bronzo Calma Lo posso provare a chillare Se vinco io il primo video che facciamo su ste mod Madonna No 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 Non può vincere il suri Non può vincere il suri Lucky block vai Così Lucky block così Vai di culo Sì Enderpearl Enderpearl ci godo L'enderpearl mi aiutano Eh mi servono No Mi servono anche tipo Per saltare i muri Calma 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 il sangue freddo Mo' devo tornare indietro Aprire tutti i lucky block Dai 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 che ci sono Cosa che devi fare? Hai vinto? No 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 ho vinto Cosa stai facendo? Ci sono Oddio i cavalli Diamo di culo Ti prego di culo No Ti prego Uccidilo ti prego Si l'ultima No La penultima No 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 ci sono Sii Nooooo Posso ancora arrivare secondo Posso ancora arrivare secondo Megas primo Posso arrivare secondo Oh 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 Si Si Secondo No C'avevo io secondo sono morto, sono arrivato al secondo ZUKA ebbene ragazzi per questo video è tutto sono arrivato al secondo per pochissimo pochissimo se non mi annegava ma sono arrivato al secondo comunque mi raccomando 10 mila like come minimo cosa è 10 mila? 20 mila, 20 mila like se no vi spacco tutte le famiglie è divertentissimo la voglio su 25 mila like 30 mila like 50 mila like no 30 mila 30 mila like so che potete raggiungerli io ringrazio tantissimo Steppi e Vegas per stati qui con noi Vegas ti volevo informare che sono la tua lane ooo comunque è venuto a uccidere perché ho vinto ho vinto io vi saluto mi lascio salutare ho detto che vi lascio salutare aspetta che apro tutti i laghi block di quest'altro perché vogliamo finire per favore ho fame devo andare a mangiare ok ciao ragazzi 30 mila like prossima lucky block ciao 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 ciao